Effettivamente la scelta di Gela non è una scelta casuale, conosciamo tutti quella che è la storia industriale di questa città, però abbiamo ritenuto importante portare qui un tema estremamente attuale che è quello della rigenerazione. La strada che vogliamo segnare o tentare di segnare non è una strada esclusivamente legislativa, ma soprattutto proporre un metodo che è l'unico metodo percorribile, ovvero una reale sinergia tra il pubblico e il privato che ognuno nell'ambito dei propri ruoli devono però per una rigenerazione reale, efficace, collaborare sulla base di una regia pubblica, anche con il territorio, perché rigenerazione non significa solamente evitare il consumo del suolo, rigenerazione significa riuscire ad attrarre investimenti e attrarre investimenti significa chiaramente consentire una crescita economica, sociale e culturale di quest'area, così come di tante altre aree, perché gli stati generali sono stati itineranti, siamo partiti dalla Basilicata, approviamo a Gela e l'anno prossimo, nella primavera del 2023, saremo a Genova.